Mamma mia Qua sono le bestemmie più grosse del mondo Veramente Porca troia Allora come faccio a capire dove devo andare però Questi sono tutti i miei emuleti Li potrei prendere tutti ma non li ho mai presi Davvero burpu Ok prima cosa recupera di l'anime che è il coso rotto Ok come si fa? Non mi ricordo niente zero Dai solo l'inizio Il problema è solo l'inizio Non assi così li odio a morte Quanto cazzo li odio Oh 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 Estò cercando di ricordarmi anche i tasti, eh. Ma guarda che cazzo di gioco che hanno creato questi. Lo scoppia, vero? No, non scoppia. Allora, qua vicino dovrebbe esserci tipo un mostro di merda che mi ha fatto tribolare tantissimo. Non so se l'ho fatto, poi. È quella specie di alvere del cazzo con tutti i mostriciattoli che ti attaccano che escono fuori. Una roba appesa al soffitto. Tipo una sorta di apere regina. Dai, fatemi backtracking. È concessissimo. Per una volta. Ricordati che puoi sparare le onde energetiche con B. No, con B posso ricaricarmi. Aspetta. Poi mi ricarico. Annaccio. Ma è possibile che sto così scarso? Oddio, non c'è il doppio salto! No, non è. Non ti preoccupare, Mario. Ci metto poco a riprendere la strada. Come mai stai giocando a un gioco decente? Che è successo? Fabrizio, anche il gioco di prima era decente. Se tu che sarei stronzo... Che è successo? Come è troppo? Aspetta, posso fare tipo il mega scatto verso destra? No, così! Sì! Sì! Dov'è la mia anima? La mia anima è questa? Dove la trovo sulla mappa, la mia anima? No, ma Lillopalle! Ma ci ho giocato dieci ore, ho fatto un botto di roba. Ci capisco, non vi preoccupate. Mi ricordo. Sinistra. Datemi il tempo di riambientarmi. Mi c'ero riambientato per cazzi miei l'altra volta. Non è questa qua dove ci sono i due pallini. Io devo andare lì, tra l'altro. Dove ci sono i due pallini? Devo fare quel cazzo di... Di... Di boss. Ah, infatti, vedi, ero morto. Mortacci sua. Quindi devo andare verso sinistra. Ok. Ok, 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 ok. Aiutatemi a fare quel boss, ragazzi. Ve prego. Vabbè, non so nemmeno quanti ce n'avevo, ma non credo tanti. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, i tasti, ok. Dovrei mettere quei tasti, eh. Ok. Perfetto, la mia anima l'ho recuperata. Adesso devo andare a fare quel... Devo andare a fare quel boss del cazzo. Che non sono mai riuscito a battere. Mai. Sono vent'anni che ci provo e non ci riesco. Come ci si va là? Ho capito, ma mortacci tua. Madonna, che mossi del cazzo. Dai! 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 Adesso! Adesso! Dai, 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 piano piano, piano piano Avete qualche consiglio per questo boss? Bussola ostinata Sciame dell'accorto, maestro dello scatto Spine dell'agonia, canto larvale Assorbe anime quando si viene colpiti Percepisce il dolore di chi non dosse E si scadena contro chi sta intorno Maestro dello scatto, sciame dell'accorto Bussola ostinata, sussurra a chi la pos... A chi la usa la sua posizione di mappa Secondo me questi qua vanno bene, mi ricordo che l'avevo fatti bene Eh, non ce la faccio, pur purmente è andato su È una pippa, tira dritto Per farlo metti le rune che ti aumentano il ranger e l'attacco Stai fermo in un punto, schiva quelle piccole quando serve Loro rimbarzano ad ogni colpo, tu pure Ma c'è una runa che ti fa stare fermo Eh, che cazzo ne so io qual è Corpo saldo Ce l'ho Equipaggiato No, impedisce a chi lo indossa di inculare all'indietro dopo aver colpito un nemico con l'aculeo Devo andare dentro un... Devo... me devo fermare? Bene, aspetta Devo andare su Ok Bella Maca, grazie per l'anno Ok, ok, ok Mi sto... mi sto riembientando Non c'è problema Ok, questo è il percorso più veloce Eccoci qua Allora, quindi che consigliate? Corpo saldo avete detto Poi Nuo lo ammazzo di botte Porco tu gli spacco la testa sto fio di troia Le larve di merda Bustolo ostinata Sussurra a chi la sussurra Posiziona la mappa Per il tempo di capire dove si trova Questo per ora non mi serve Sciamma del raccorto Chi lo indossa sarà seguito Da una sciamma di che raccoglierla Tutti i giorni non mi serve Aumenta la resistenza E permette a chi lo indossa Di rimanere in volderabile Per un periodo di tempo maggiore Mentre si riprende dei danni Va bene Usato Non mi serve Si dice che raccoglie Il sapore di generazione Aumenta la potenza degli incantesi Influendo più danni a nemici Boh, sarebbe carino Si tre Oh Che dite Per me va bene No assolutamente no Va bene Secondo me Vai Allora ragazzi Mo io me vedete un po' così Che titubo Che sto un po' in crisi Ma in realtà Questo gioco Non l'ho abbandonato Perché non ero capace Ma semplicemente perché Non avevo tempo Ma non era qua che dovevo andà Era qua Non era qua Vero Madonna Non era qua che dovevo venire Non era qua Non era qua Non era qua Dio Dio madonna Dio madonna Ma come cazzo Ma come cazzo fai Ma è impossibile Ma è impossibile Sono focussata Sono focussatissimo Vabbè era la prima volta Dai dopo vent'anni Ci sta Dai Concedetemelo Andando Andando verso sinistra Ma perché il percorso è sbagliato Perché io non capisco Ma perché il percorso è sbagliato Che area del cazzo Che area del cazzo Ma poi sto rumore di merda Io l'odio, l'odio, l'odio Madonna se l'odio Quindi mi dedete di ritornarci Io perché me la so legata a dito Sta cazzo di larva di merda Capito? Me la volevo togliere dal cazzo Una volta per tutte Sono vent'anni che provo a farla Ed è uno dei motivi Perché ho quittato il gioco Oltre al fatto che sto scarso in culo Se non sciotti quei cosini volanti Non sei abbastanza veloce Per colpire il bozzolo Vero Quello è vero Sono troppo scarso questo livello Ce l'avevo già pensato vent'anni fa Ti conviene potenziare la cura E provare le mantidi A sto punto Prima di fare il boss Allora Va bene Ti amo retta la chat Per una volta Quindi dove mi consigliate di andare A questo punto Sì ma dal fabbro per pagarlo Devo avere tante monetine Io adesso non ce l'ho le monetine Mi rompono il cazzo i minion Non ci riesco rica Dovrebbe andare nelle terre di riposo Per proseguire la storia E infatti dovrei andare nelle terre di riposo Che stanno Nelle terre di riposo Eccolo il villaggio delle mantidi Volete vedere gli amuliti che ho? Questi sono i miei amuliti attualmente Va bene Intanto vado al villaggio delle mantidi Vedo che lo scrivete in tanti Dai Tanti Ma non c'era un modo per teleportarmi Nelle zone C'era mi ricordo Cos'è quel buco di culo? E' la variante Omicron Porco tu che botte che tira Ma questi sono impossibili da affrontare Come cazzo fai? Questa zona non è mia E' troppo difficile Ciao belli Ma già questa qua a me mi sembrava troppo tosta C'è già questa zona qua a me sembrava un botto tosta Ok siamo sulla seggiola Usciamo dalle vetrovi di merda va Bella Niba grazie per i tredici mesi Esco banca a far parkour Ok Come on E' da' 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 Ok Poi non c'è sta tipo quello che ti da il passaggio Rimetti la bussola o ti perdi C'è ragione Vabbè comunque stavo a capire più o meno dove ero Ripara pure i tasti Più o meno eh Serve la panchina per farlo Oddio madonna che palle sta cosa Come si faceva? Come si faceva? Oh Non c'è po' far Cavaliere vacuo Che bello però Vabbè ma ovunque vado Pieni schiaffi Che cazzo Ci sarà una zona adatta a me Oh Vaffanculo Da che cazzo De posto Sto un po' esplorando Ragazzi Aspetta Così farmicchio Ah che bello Farmare Non troverò una panchina A una certa no? Ah è per tirarla È per tirare giù quello Ok Ok Qua non ci si può andare Troppo alto Qua riscendo Perfetto E qua ritorno qua L'ho esplorato prima Perfetto Non c'è niente Mi sembra che da qua poi c'è lo caduto Oh c'era una zona Madonna questo c'è un range assurdo Lo ricordo Mortacci Quanto era tosto Questo Bastardo Sì è vero C'è una banca Dove poi ti potete Dare i soldi Velmi Ardred Vol'ho esplorato Vol'ho esplorato Ancora! Ah, questi chi li vendo? Oddio, non ho letto adesso Ok, questi chi li vendo? Li li vendo tutti quanti? Questi giri dei ricordati Erano i simboli ufficiali del re Dei suoi cavalieri Ed erano molto preziosi A chi li portava Oh, Paul Sono figure venerate al nido sacro Spesso menzionate negli annali del reame Ma solo come gruppo Il loro aspetto Sembrano essere stati cancellati dalla storia Passato tanto tempo dalla loro epoca Sarebbe un'impresa eccezionale Scoprire loro identità Mi servono i soldi Devo fare l'upgrade della spada Però conservano sempre Lo spendere non c'è niente di male Ad apprezzare qualcosa Unicamente per le sue qualità estetiche State tranquilli ragazzi Ma vi pare che vado a perdere la roba Sarebbe una città che la figura è un imponente cavaliare Potrebbero rappresentare Uno dei cinque grandi cavali Era dare un'archiata Ma le porte sono chiuse da tempo E sarebbe una gran seccatura Fare il percorso lungo Tutti i come reti Ok Dov'è la banca? Ok Oggi! A sinistra della stazione regina! Stazione del re? Della regina non l'ho mai vista io! Non c'è la stazione della regina? E' quella lì viola? Ah, stazione regina, eccola lì! Stazione dei coleotteri! Qui alla città delle lacrime c'è una stazione dei coleotteri, quindi ci potrei andare volendo! Solo che non so come cazzo fare! Oddio, è un macello, raga! E' un macello, raga, è un macello! E' un macello, raga, è un macello! Dov'è la panchina? Dov'è? Io adesso dove mi trovo? Dov'è la statua? Allora lì c'è la statua del cazzo, no? Io sono al sacrario delle anime adesso, in teoria! C'è una panchina lì! C'è il mercante, vedi? C'è il mercante con cui ho parlato prima, sì! Se io salgo tutto su, su, su! Riesco ad arrivare a una panchina! 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 Non è qua Ecco mi dice che c'è una panchina qua Vedi c'è il simbolo della panchina E qua e qua e qua Cos'è sto posto? Sagrario delle anime No non è qua la panchina È a sinistra No 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 Bastardo Pog La panchina Ok Mettiamo la bussola Se ti senti sperduto Andare finalmente in una zona che ci interessa Che è quella lì Quindi devo andare qua a sinistra Devo andare alla stazione dei Koleok Per andare a deposita 2500 euro Cos'è questa cosa qua? Quell'alberello Siamo questi arrivati Dove andare a sinistra Da qua ci si arriva alla stazione dei Koleotteri Dai Eccola Che bello Madonna Che spettacolo Ok Adesso dovrebbe esserci una banca Avete detto Io non mi ricordo un cazzo Allora La banca La banca La banca La banca A sinistra della stazione regina Quindi io devo scendere sotto E andare in quel posto Dove non sono mai stato Su a sinistra Non è sotto Ah è qua È Il posto deve essere ricco di attività Visto la sua posizione Fra le due terre Di grigli nerviosi Da un lato Nessuna di quelle due aree Sembra essere particolarmente accogliente Quindi finché Continua Chi è sta stronza Chi era Gaia? No ragazzi Qua ci stanno le meduse Chi è sta stronza Chi è sta stronza Chi è sta stronza Ok Stiamo tranquilli adesso Ce l'avevo già messo 800 euro Visto? Adesso dove Mi dovrei andare A potenziare E lo spillo Perché sono scarso in culo Dove andrei Dove posso andare A farmare E a potenziarmi Piano piano Dove ho ritorno Incareggiato Da Devo solo ricordarmi Le cose Piano piano Prima L'inventario Serve minerale Vediamo se ce l'ho Il minerale C'ho nuova Uova arancide C'ho l'attacco potente Non ne ho Per farmare C'è da fare Backtracking Parti dalla prima zona E vai verso la foresta Consigliate questo? Allora Vediamo un po' La prima zona È pulveri Pulveria Ovviamente È dove si inizia Tu scendi da là Passi là sopra E arrivi in quella zona lì Che è bellissima Bella mad bosca Grazie del ride E poi inizia Inizia a far micchiare Scendi sotto E piano piano ti allarghi E scopri tutto questo mondo Sotterraneo Di merda Io qualche boss Già l'ho fatto Però Poi a un certo punto Mi sono bloccato In particolare Su quella alveare Quella sorta Di quella Che cazzo era Non è Io lo chiamo alveare Ma non è un alveare Devi andare a verde via Verde via Verde via Verde via E qua a sinistra Ma l'ho fatta tutta verde via Mi sembra Questa l'avevo fatta Ah no La sotto non ci sono andata A sinistra Invece al passo del re Ottieni degli oggettini Dicono No Non inizio da capo Di nuovo ragazzi Si possono riprendere I giochi dove sono stati lasciati Con calma Anzi C'è più sfida ancora Così Il villaggio delle manti Ti dici Ci posso andare A piedi però L'unica è andarci a piedi Non inizio da capo Madonna Non mi ricordo nulla La zona Più o meno Me la ricordo Però Non ricordo I boss Giusto quelli C'è i boss I mostri No i boss Lo scoppiava No dovevo scendere Una certa Sono un coglione Aspetta Ho sbagliato Dovevo scendere prima Sono un po' Un cogliancello Qua dovevo scendere Ok Qua invece Devo andare A destra Ok Quindi scoppiano No no Quello si Quello è un amantide Vero Può dire che sta andando Nella zona giusta Ok Questo è il gioco Più bello del mondo Beh Si Cioè no Più bello del mondo No dai E' molto 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 Bello Fatto bene Curato Può essere Incredibilmente Figa Vabbè Colpito dagli esseri Più inutili del gioco Devo imparare A colpire In verticale Ci siamo Siamo quasi arrivati Questo alberello qua Come cazzo si attiva Mi serve una roba Non lo so Quando uscirà Un seguito ragazzi Ok Siamo nel villaggio Delle mantidi Mortacci tua Qua Qua dove Mi ricordo che era un dito in culo Sto posto Mi manca un amuleto Avete detto Ma siete sicuri che non ce l'ho Cerca bene qui Ok Ok C'è un passaggio che puoi vedere dalla mappa Questo Questo qua Quello vero No no mica bestemmio Chi ha bestemmiato Bestemmiato Non mi pare di aver bestemmiato No 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 Non è mica quello Il passaggio Ah Perché l'ho Ho battuto il capo Quindi adesso mi rispettano Vero Marchio dell'orgoglio Ho capito Scusate ero distratto Stavo leggendo un altro consiglio Aspetta Sigilo del nitrosa Ah questo è da dare sempre a quello stronzo Finito Mi sembra ci sia nient'altro da Da prendere Allora vediamo un po' Avete fatto prendere Avete fatto venire qua per prendere un amuleto Che è il Stemma del difensore Dona che io indosso Un odore eroico E' questo è Il marchio dell'orgoglio Ok Lasciate perdere Offerto intorno Dall'attributo elementi Di insegno di rispetto Aumentano Devolmente la portata Della culo Permettendo di colpire I nemici più distanti Poca assolutamente Metterlo E devi stare su una panchina Per mettere Subito Un rium di risposto Magistrata Un rium di rispetto Quale sei Tra in un rium di rispetto Sedano Orano Vi s lasciano Sudanko Direi Salute 啊 Facляzo Vediamo 싶a Per BAM! Niente Bella Nek, grazie per i 14 mesi Prova ad inserire più amuleti E' più che così, non c'ho gli incavi, regà Mi serve da allungare gli incavi Adesso dove mi consigliate di andare? Allora Che vuol dire provaci? Prova Non me li fa mettere? Metti uno slot da due quando ne è uno Quindi? E' più che così? Non me ne frega un cazzo Vi ringrazio del consiglio ragazzi Ma non me ne frega un cazzo Voglio giocare il gioco normalmente Non voglio avere il danno doppio E prendere più danni Perché già sto avendo dei problemi Non serve questa cosa Però grazie siete stati gentili Andiamo in un'altra zona Quando ci prenderò magari più la mano Si farà In un'altra zona qual'era? Per continuare Consigliate nido scuro Il Colosseo è da fare Colosseo non ricordo dov'è A parte me sa che non l'ho mai visto Il Colosseo Mi sembra Vette di cristallo Il picco di cristallo Laggiù dite Non ci si può arrivare col Col furgoncino Sì vabbè c'è una zona vicina Di sentieri dimenticati Appoggiami il tetto Lì sotto pure non ho esplorato Sotto alla stazione del Rie La zona lì sotto Ok 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 Però qua ci sono delle zone Che sono molto vicino Bah io vado qua in realtà Aspetta Ci sono vicino Lo voglio esplorare Non prendo 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 Ah qua avevo fatto Ok Era stata la boss Fright Nido scuro Voglio esplorare Stato o no? Anche se da come dice il nome Sembra una zona molto del cazzo Tra l'altro mi servirebbe la mappa Di questa zona Che non ho trovato Non ho ancora comprato Ah me la ricordo Sta zona del cazzo No l'ho già fatta L'ho già fatta No ma l'ho già fatta Questa raga L'ho fatto anche questa L'ho fatta L'ho fatta Questa La mia fatta Questa 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 M 190 Sì, ce l'ho la mappa, è vero Però Non era tutta completa Mancava un pezzettino Ok Questo gioco è molto chill comunque Cioè nel senso Che non lo giochi tu, non lo giocate voi È chill da guardare Il problema poi è quando inizia A bestemmiare la madonna Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Però anche da guardare uno che bestemmiare la madonna Se il nome è chill Che dite Ok Oh qua non ci sono andato Possibile Che c'è qua da fa? Ah perché non ci arrivavo Non ci arrivo Grazie Fluffy Muffin per Lost Bella rica Grazie Grazie mille Fluffy Fluffy no Fluffy Che bello il mio inglese Merda Ma perché non riesco? Ma si può tornare indietro da questo punto? Ah sì, ok Fancolo Ma sono a metà non fastidio queste cose Sono dei uuu Sono dei cazzo di uuu Ah, sono tutti uuu Nooo Ma qua Niente ragazzi Ho un pepega Quanti di voi hanno trovato problemi di orientamento in questo gioco? E quante volte si è andato nello stesso posto 500 volte? Perché non vi ricordavate un cazzo? Vedi? Sì Zero Sì Vabbè Sì 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 ho capito che c'è la mappa Ma ti perdi lo stesso Può capitare Dai Allora Qua ci stanno le medugie Ma io devo andare Non devo andare qui Devo andare giù Devo andare giù alla stazione Anzi quasi quasi Che deposito pure i soldi a quello stronzo Era qua? Che cazzo stava? Perkinje? Ma mi ha fregato i soldi Com'ha di? Ma mi ha fregato i dati Ma Che vuol dire sta cosa? Montepaschisiena Dov'è che devo andare? Oddio qual'era? Sentieri dimenticati giusto? Non ricordo Allora Io voglio andare Ai picchi di Il picco di cristallo Però anche se Credo di averlo già fatto tutto Il picco di cristallo Forse lì ci sono delle zone Che non ho esplorato In realtà E Però andiamo a dare un'occhiata Andiamo a controllare Quindi se devo andare Sentieri dimenticati Per arrivare lì Oppure ci posso arrivare Da pulveria Da pulveria Ok Quindi vado Vado di pulveria Vado di pulveria Intanto parliamo un attimo qua Fammi ricontrollare Sta zona Che non me la ricordo bene Ecobus Ecobus Non mi resta più niente Allora Allora Questa avevo comprato tutto So Zuma Zuma Concon Budo lan Naha tu Qua è dove inizia il viaggio praticamente Lo ricordo sto posto per cazzo Papa nada Aspetta fammici parlare Grazie Eugenio Pino benvenuto grazie caro Ah mobadis E' vero lui è la moglie del cartografo Bubba Ecco a due ho premuto un tasto per sbaglio Madonna Ulili ci sono un pacnelo oh ah 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 ci sono stai contento zirca papi nada, papi nada, papi nada Perca due Avete una banata Siamo avete una banata Allora dove mi consigliate di andare Ci sono delle zone che non ho esplorato Potrei andare lì sotto a destra Dove mi avete detto voi Perché sto a strillare Bastardo Dove dove Di sotto giusto Dio 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 Mettimi in altra culo e un culo Che dici Dio 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 Dai rega ma non è possibile Ma come cazzo se ci gioca Dio 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 Chi era quel bastardo? Non mi ricordo chi era il bruchino. E mo? No, regà, non me lo ricordo, davvero. Vabbè, poi sicuramente mi verrà in mente. Cioè, sono venuto qua per salvare il brucho? No. Come su a sinistra? Ma porco dei due, come? Come su a sinistra? Tenebra discendente. Tiene premuto giù per colpire il terreno con un'esplosione di energia. E adesso? Butto giù. Ok. Eh, sto di nuovo qua, però. Ma risto un'altra volta qua, regà. Ma avete detto una cazzata? Ah, ma è stato diventato un fenomeno, però. Qua giù. Ma i detti sono coloro che si rivoltano contro il re. Questa è la zona nuova? Davvero? Ok. Ci sarà una panchina o qualcosa, no? Allora, andiamo a sinistra. Esploriamo destra e sinistra. Sinistra. Meccanismo con una fessura per una specie di cazzo. Ok. Questa è la stazione dei... È la stazione dei cosi, dei coleotteri. Quindi qua ci sta la stazione dei coleotteri. Ma io il biglietto non ce l'ho. È da attivare la stazione, quindi, col biglietto. Per proteggere il ricettacolo, i sognatori dormono in Eterno. Monomon è l'erudita. Nel suo archivio è circondata da nebbia e bruma. Luria è nel guardiano. Nella sua torre è sorvegliata dall'alto della città. Erra è la bestia. Nel suo antro, tra la profondità di sicurezza, grazie a loro le devozioni, non lo sacro e vivere in Eterno. Posizione dei sognatori aggiunta alla mappa. Piccola ombra, non ti avvicinare, Harry Potter. Cosa la spinge a farsi strada fuori dall'oscurità? Cosa la spinge a tornare in questo regno sacro? Un richiamo al di là dei sicili. Il ricettacolo forse la luce prigioniera. I sicili si spezzeranno, non possono essere infranti. Ma il ricettacolo si indebolisce, la piacca si diffonde e devono essere infranti. Eppure i sicili perdurano e il nostro dovere persiste. Deve essere scacciato. Il nostro dovere persiste, così sia. Avada Kedavra! Svanisci piccola ombra, svanisci e lasciaci dormire in pace. Tintato Dunkey Gong. E questo è il Path of Pain. Ti hanno inflitto un terribile destino. Sei stato scagliato in questo spazio tra corpo e anima. C'è tra il loro giudizio, svanendo poco alla volta. Piuttosto di impugnare l'arma davanti a te, ti farai strada fuori da questo triste sogno dimenticato. Sempre avuta, Blacalone. Siete voi che mi sottovalutate sempre. Non credo, Duroc. Avete ottenuto l'aculio dei sogni. Per caricare e sferare il corpo con l'aculio squarcia il velo che separa il sogno e la veglia. Ah, sei di nuovo qui! Sì, mi è tornato dal mondo della veglia. Quelle figure e quei sognatori, usando il poco potere che ancora possiedono, ti hanno trascinato in quel loco segreto. Ma il talismano che ora porti con te la culo dei sogni può squarciare il velo che separa il mondo della veglia dal mondo dei sogni. Nemmeno i sognatori possono nascondersi da una tale arma. Devo ammettere però che quella sacra lama sia smussata con il tempo. Insieme forse potremo ripristinare il suo potere. Devi solo portarmi delle essenze. Le essenze, i preziosi frammenti di luce di cui sono fatti i sogni. Raccoglile ovunque tu possa trovarle e portamele. Quando ne avrò a sufficienza, io e te potremo compiere i portenti. Ora va, Araldo. Trova le essenze che si nascondono nel nostro mondo. Raccogli cento essenze. Cento. E torna da me. Quando l'avrei fatto potrò insegnarti altro. Cento essenze. Meglio quante ce ne ho, scusa. Zero. Bene, perché mi stai dicendo di usare la culo su di lei? Prima bene mi hai consigliato di mettere una modalità più difficile. Non dite me che a tempo? Mi serve l'attacco con lo potente. Ma cos'è? Bella regà, saltata. Come state? Oggi giocheremo Hollow Knight, regà. Questo è come mi hai ridotto lo zabbaglione. Oggi guarderemo dei datavideo. E dei contenti. Shortcut? Martacci tua! Pezza di merda! Ah! Stavo che era il bruchetto io. Sigilo nido sacro. Pog, pog, pogu. Abbiamo pure trovato dei segretini, oh. No, 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 no. bella bella Zef grazie qui la Polo per i quattro mesi la prima sabbia 2022 grazie cara aspetta ma dove devo andare mannaggia la madosca mi sono caccato addosso divaratori di anime vabbè la curiosità la curiosità ha fatto secco il gatto no com'era? no il topo chi era che era morto la curiosità? il topo? il gatto? la volpe? la curiosità ha ucciso e data ma sbaglio ho trovato un amuleto che si chiama oddio qual è? madonna ma perché non mi ricordi? non mi dè le cose buonasera dada buonasera chat una domanda perché scegli sempre dei giochi che richiedono una quantità di skill che tu non hai? divoratore di anime un manufatto sciamanico dimenticato è stato usato per assorbire le anime delle creature ancora in vita aumentano notevolmente le anime raccolte colpendo i nemici con l'achilio vabbè è buono non c'entra però non c'ho abbastanza slots grazie giulio grazie giulio comunque grazie grazie per i 15 mesi che è sta stronza? no ma a me no questo mondo questo mondo che è l'infido perché che è cura perché che è petite alla mer non puoi aver conosciuto una tragedia così completa come quella di che due amanti separati dalla con la forza due mondi incompatibili ora e ora l'amata Meled morta da così tanto tempo morta così lontana sepolta moina ai fra le sue crudele gente che rifiutò la nostra unione che rifiutò che perché non era come loro forse nalo nalo potrebbe che richiederti questo favore potrebbe che richiederti che di portare questo fardello la mer potresti vorresti portare questo dono alla nostra tomba il dono è forse poca cosa ma il viaggio è lungo lei fa riposa fra la sua gente il verde rifugio della regina potrebbe essere fatta una tal cosa forse che chiede qualcosa di impossibile qualcosa di folle se la mer accettasse un tale compito sarebbe perché la gentilezza che è la ma che cazzo delingue accetto si tratta di portare un fiore dall'altra parte della mappa a piedi senza farsi colpire mi sembra un po' difficilino che cazzo Suga Basta Dovrebbe esplorato tutto no? Giusto raga? Non ho la mappa di questa zona Porco de due Vedi che rotture di cazzi Devo trovare Escanor Lì quello con la mappa Come cazzo si chiama con lo stronzo? Questi sono tossi in culo Come cazzo Ma non muori Oh Ho perso De merda E che cazzo è Ma che era un boss Ah ma qua ci posso camminare Mi stavo a fare problemi Mi stavo a fare problemi Alto là Chi cerca di abbandonare questo regno viene maledetto Meglio riposare qui fin quando il tempo lo stesso dormirà Speranza, libertà Credevo che mi bastassero la forza per conquistarle Nei miei sogni facevo brandelli di pestilenza con il mio culo Per poi allevare le mie armi contro il re Quando mi sono svegliato in questo sacro luogo Ho finalmente capito Chi spera è già condannato E tu nutri ancora delle speranze Viandante Ti darai alla fuga O combatterai condannandoci entrambi Chi spera è già confinato Il mio un'esprezope E tu diverti E tu non ti per favore E tu non ti per favore E tu m'ai mai mai fatto E tu non ti per favore Come da la fuga Ocoba, eccala! Uoda, ocoba, eccala! Eccala! Ciao! Ocoba, ocoba! Oda Salve 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 Eccala Devo prima reccare un attimo Fatemi Fatemi reccare un attimo C'è stata una panchina da qualche parte No? Che è sto lago blumo? Tocazzo sta una panchina Porco due Dai Magari recco con questi semplicemente Ecco qua Che cazzo me frega Mo' sono diventato fortissimo Questi sono scarsi C'è la faccia a farlo A farlo quel boss secondo voi Dai ci provo Va bene Va bene Ma i flea Va bene ma questo boss è un po' un figlio di puttana Comunque perché vuole E ti tira le cose dall'alto Cioè ma che cazzo Si permette Ma che cazzo Ma che cazzo Cosa credete è essere sto testa di cazzo Ok adesso basta parolacce Posso dire tre parolacce ogni dieci minuti ragazzi Dai riproviamo Ok adesso Mortacci Se cado nel buco so finito Non ti cazzo dei cortelli c'ho Mi sa che gli faccio poco danno Ma ora capisco che si rivolta contro il Recon Andando all'istante in cui leva la sua arma Non chiamarmi traditore, chiamami solo sciocco So che non fuggirai, ovunque tu vada ti osserverò Che mi ha dato? Ah 120 euro Pony Eh non c'ho il biglietto Come faccio a chiamare i finicotteri qua? Eh portamoli alla banca Eh Questa zona comunque l'ho esplorata tutto adesso Il problema è che non la posso vedere Mi fa incazzare Eeeh Cos'è quell'occhio lì? Dovrei tornare su Dovrei tornare a Poggio cristallizzato Oppure Dovrei Dovrei scendere e trovare una strada Un'altra strada Non so come fa però Perché non c'è star cosa Non c'è star coleottero Ah qua c'è sta una strada Dalla vecchia ne voleva 200 Potrei andare qua a sinistra La vecchia ne voleva 200 Dei sensi raga 100 E ora tornavo dalla vecchia Com'è che ci si torneva? Le pareti qua a destra No non era qua Non era qua vecchia No non era qua Non era qua E' sopra Che c'erano due buchi qua M'ero confuso Uno ti porta da E' qua E' qua E' qua L'altro qua non ho esplorato Sono sceso diretto Perché avevo preso i cazzi Ma non ho più Tipo qua non ci sono andato Vedi C'è sta un altro coleottero qua Porco De due C'è un'altra direzione Pepe 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 Prendi questo piccolo dono come incoraggiamento da parte mia e torna quando ne avrai 200 Sigilo di Nitosagro Ma come quando ne avrai 200? Ma avete detto 100? M-m-m-m-m-m-m-m-m-g-m-m-m-m-m-m-d-e-t-on? Acai! allora 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 io adesso mi trovo qua e non ho la mappa se volessi andare a comprare mi avete detto che per andare a riprendere i soldi adesso mi servono delle ali come faccio a prendere le ali è importante questo uccidi boss io vorrei farlo un boss stasera come cazzo fama fa un boss da qualche parte tra questi due si trova il nido dei coleotteri il posto dove sono nato e cresciuto credevo posizione per via della mia memoria indebolita more riesca a ricordare il tragitto continuo ad aprire le stazioni a chiamarmi forse riuscirò a trovare il nido a quanto mi piacerebbe stazione del re mi fa piacere caino ciao md sono contento vaga ma pulveria non posso recuperarla la mappa devo andare devo trovare il tizio che ti vende le mappe ci sono stato dall'amo perché pino in cura non finirò mai questo gioco secondo te allora papa nada non è comunque comparso non è comunque comparso riga la mappa papa nada mappa 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 Devo incontrarlo nelle zone ragazzi Non metan cazzole Ok Ah pap nada Voglio andare ad esplorare Una zona nuova Anche se dovrei fare Questi cosi Uno due dove trovare i sognatori Sono tre giusto Uno due tre Uno sta qua Che era la zona che stavo facendo Uno sta qua E uno sta qua in culo al mondo Ci si arriva da nido Da nido oscuro Io a questo punto tornerei dalla vecchia Sì vabbè la vecchia insomma Quella stronza E Esplorerei Continuerei ad esplorare quella zona Anche se non ho la mappa Sti cazzi Erano le terre dei riposi Non fa niente Tom Spiacciato di non aver ti rivisto Ti senti sperduto Perché non vieni nel negozio Negozio a provare a comprare una mappa Eh ci sono venuto Ma non c'è Buggato Sì la voletta prima ragazzi La voletta L'ho letto In teoria non c'era perché non ho letto il messaggio Ma come no Sì che l'ho letto Va bene Allora Vediamo chi ha ragione Bella chef Grazie per il rinnovo I due mesi Grazie caro No ragazzi Oggi facciamo tutto gaming Sto lentamente Fissando il programma Ufficiale Baffanara Bella tizio Grazie del ride Bella regà Grazie tizio Ciao a tutti ragazzi Continuiamo l'esplorazione In quella zona del cazzo Sì cazzi Proviamo Allora Se vado a sinistra C'è il lago Voglio vedere Questo lago dove mi porto No non era qua però Non era qua Non era qua Bella tizio Qua sotto Ok Qua qualcuno Mi aveva detto Che non avevo Spaccato un muro Una roba Non mi ricordo dove Boh Vabbè comunque Vediamo questo lago Dove mi porta Ma non era qua Vero Sì era qua Era qua Era qua Proviamo Ma io voglio azioni Combattimento All'ultimo sacco La tranquillità E una noia Combattiamo Sanna Alla vaffanculo Stronzo Bella raga Sentieri dimenticati Nuova zona Senti compro questo Allora Jabber Ne ho fatta Questa è la prima Ma io ci ho giocato Tento tempo fa E voglio finirlo Sono dei giochi Che non ho finito Fa parte dei giochi Che non ho finito Io compro questo Sì Il muro di contemporaneo È molto divertente Per mischerli E creare le combinazioni Perfette Non so se le hanno dato Sembano combinarsi I miei gli altri Quando gli ammureli Hanno una perfetta Ammonia Brillano ancora di più E cantano in maniera Più merudiosa Una ragione in più Per divertirsi Tentando tutti i tipi Di combinazioni possibili Quando avranno Una nuova collimazione Perfetta Me la mostrare Vero? Ma davvero? Ma come brillano? Ma non brillano però Da cosa lo vedo Quando brillano? Tipo Quali sono quelli Che brillano? Ma non brillano? o o o o o o no 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 Poverini quelli lì Tipo super pippe Mi dispiace Qua sembra un'arena Qualcosa per combattere Ma è una zona che ho già esplorato questa Ho capito Ho capito l'inizio questo Va bene E allora Dobbiamo ritrovare Ci siamo incastrati qua Ma non la sapevo la strada Ho provato a esplorare in una zona che non conoscevo Ok quindi se dal lago blu vengo qua Mi attacco al cazzo Ho capito Ma questi sono i primi boss C'è i primi boss I primi fight Vabbè infatti mi danno niente Due Ma magari adesso Col fatto che c'è un range molto più alto Riesca a colpire meglio Il boss La larva di merda Che dite Ci si potrebbe provare Così per una soddisfazione mia personale Sì ci sono già stato Eh ma mi servono Mi servono gli oggetti Per potenziare la culia Mi servono pure i dindini Che adesso Mi hanno rubato Aspetta Perché mi indica la stazione Con le ottero là sopra Ok Perfetto Perfetto Grande demonio Sei stato simpaticissimo Ritorniamo alle terre di riposo Ok ok Even Ciao windows Beh è vero di ragazzi Siete bellissimi e fantastici Se c'è qualcuno nuovo Potrebbe scrivere adesso in chat Sono le 20 e 21 È l'orario dei nuovi questo Ovvero qualcuno che non ha mai scritto in chat E sta lurcando nell'ombra Può scrivere adesso Tranquillamente Eh Una zona nuova Attenzione Uno è windows Per esempio Non aveva mai scritto Vedi Scudo dei sogni Giuseppe 2293 Ecco È nuovo Ha blito la piastra Benvenuto Sgoff Va bene Usato un tempo Da una tribù Che poteva Dar forma ai sogni Evoca uno scudo Che si segue Chi non dos Tenta di proteggerlo 3 Però porco 2 3 Ciao Daulias Eccomi Data Eccomi Non ti ho mai cacato Data Vabbè Sincero Schietto Bella windows Benvenuto Grazie del prime Caro Bellissima Sav Grazie Caro Allora Mi avete detto Che qua c'è un modo Per arrivare in un posto Nuovo Da esplorare Non mi viene in mente Un cazzo Mo' provo a andare qua a sinistra Qua è da dove sono arrivato Però Io sono arrivato da qua No Qua è da dove ho fatto il fight Ho preso le 120 Le 100 I 100 pipi E ok Qua c'è sta il fenicottero Che da che manco i soldi Cioè sfonda Bella Vincello Grazie per i due mesi Data mi sono abbonato finalmente Se è stato da pop in italiano Mi aspetto grandi cose Dal format contro gli spect Speriamo Dai Andrà bene Andrà bene A voglia Pure io Grazie Vincello Vincello Bella Sad Benvenuto Sad Benvenuto anche a te Sab è molto bella Anche questa Adesso però Cerchiamo di capire Dove cazzo andare Perché non ho la mappa E quello stronzo Non c'è Quindi non la posso Comprare da lui C'è un modo Per scendere lì Voglio andare A quel cazzo di boss Come si fa? Dovevo andare giù prima Sì ragazzi C'è un telegram Anche per gli abbonati Se volete entrarci Ah indietro Dove ero andato prima C'è un telegram Solo per abbonati Dove si discute Anche di giochi E E di tantissime Altre cose Per ora Non siamo tantissimi Quindi abbastanza Tranquillo e leggibile Allora Da qui Lì c'è il lago No? Qua c'è il lago Qua c'è il lago Qua c'è il lago Qua c'è il lago Con due che saracca Che m'ha tirato Ok No lo so Volevo rifarlo Così mi sta sul cazzo Qua c'è l'ascensore Se scendo qua Vado nella zona Con la pioggia Se scendo qua Vado nella Nella landa Nella cosa delle anime Perché c'è l'ascensorone Vedi? Quindi mi trovo qui adesso In perpendicolare È lì in chat Il telegram per i abbonati Ragazzi Se lo cliccate Dovrebbe portarvi Direttamente nel telegram Però sta di nuovo qua Ok Madonna quant'è Ecco È dispersivissimo Oddio Cristo Ok Ci sono Tanto sto rifarmicchiando Va bene Guarda quanti soldari Gali c'erano qua Ma sta zona Allora forse Non l'ho fatta Ma è possibile No l'ho fatta Sta zona Non è possibile Non l'ho fatta Non l'avevo preso Qua se scende Qua se scende È nuova 100-100 Questa per voi Secondo voi Stazione del re Ma io la stazione del re L'ho sbloccata Però Riga Qua c'è il coleottero Qua Coleottero Ciao maxi Benvenuto Buonasera Ciao minzi Prova a salire Della parete Dove c'è l'ascensore Aspetta Aspetta Oddio Ora per questa porta Mi serve un attacco O mi serve una leva Una leva Hmm E dove sta sta leva Il coleottero Attacchi da sopra Così mentre lo scudo sopra Poi gli mini a destra E a sinistra Ok Aspetta Questa zona L'ho esplorata Non c'è più niente Da prendere qua L'ho fatto tutto qua Che devo fa' Ok 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 Come faccio ad andare Tutto a destra Riga Torna sotto Dove c'era l'acqua E vai tutto a destra Avete detto Ma da quant'è che si può nuotare Mo Ma non Ma i coleotti Non nuotano Aspetta 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 C'è lo stronzo C'è lo stronzo Oh Vaffanculo Damme le mappe Cioccoli Che bec Piss Pertografare il mondo Che mezza gioia Solo si sa Sono i suoi pensieri Aspetta Aspetta ma avete detto Di tornare indietro Di esplorare Ma come già ce l'ho Sta zona Scusa Ah è vivo È vivo È vivo È vivo Ma quindi scusa Per venire qua C'ero già C'ero già caduto Dentro l'acqua Custo Ciao Simone Qua non c'è nulla Aspetta Ah 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 Fatemi esplorare quella zona là C'è un pezzo dove non sono entrato Fatemi vedere che cazzo c'è no? O ci sono stato? Ci sono già stato perché è qua Anche se non me lo dà sulla mappa Vabbè intanto li stiamo fissando tutti Prova a leggere i pensieri dei cadaveri Non si possono leggere Eh qua prendo danno Qua non ci posso andare vedi Ah sopra c'è il Colossero Giusto Quello è acido porco due Oh ma che cazzo sono questi mostri No sono troppo forti in quest'area Regà Mi serve un'arma più decente Ci metto troppo Ci metto troppo Non va bene secondo me quest'area Devo farmà Però sto farmando eh Perché che cazzo Quanto stanno Milan-Roma Vabbè finché sta così Non danno passaggio Aspetta Aspetta No non posso passarla Vedi Ecco perché Ok sta zona la va accannata Perché non posso passare Oh ma sta a farmà un botto Fatemi farmà Aspetta Sta a farmà soldi gratis Questi troppano un botto De cazzi Mi serve un aculeo molto più forte Non li sto shottando Ma baby Bega Ehhh Quelle moschine Sono il nemico più fastidioso del gioco Mmm no I più fastidiosi sono messo a quei cazzo di vermoni di merda Almeno per quanto mi riguarda Sta qui Ah lo vedi ho girato il problema Sì Sì Ma perché altro perché non gli faccio danno Quindi stanno là tre ore e rompono i coglioni Capito? Voglio andare là sopra Ok che c'è qua sopra? Perché di questa zona non ho la mappa? Guarda quanti saldi Sì lo so che posso leggere Lo so ragazzi lo so l'ho fatto prima Ah anche nei pensieri dei mostri Serio? Ma non è vero? È difficile da fare Ma quante cose ci stanno tra sto gioco? Ma non è vero? 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 Qui sotto c'è un'area dove altri come te attendono l'inizio delle proprue Ti costruisco da mettere lì e riposarti prima di apporre il tuo marchio Oh e non dubitare sono un pro del guerriero anch'io Non fare l'errore di giudicarmi in base alle mie codimensioni E ho l'imitazione Il colosseo ci chiama entrambi presto prenderò parte anch'io gli scontri Un piccolo contributo e potrei accedere alla prova del guerriero Pagare la prova del guerriero? Secondo me questo mi sta scammando Tutto bene no? Però si apre per te Spero tu offri un bello spettacolo Tutto bene no? Ok 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Dai! Ma proprio sti bastardi! Altri! Oh, che cazzo stai addi? Vabbè, non ho fretta però, eh. Se gli salto sopra la testa li inculo questi. Quanto dura una prova, una settimana? Oh, che cazzo stai addi? Bastardo! Vabbè, per farmare un pochettino... No, la madre! Devo saltare in vertico... Nel basso. Troppo... Troppo... Va bene, bravo. Va bene, bravo. Ma non era finito! No! 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 Vabbè, il B-52. I E l'avante Mi Sì! M Jacic Deixa intended Grazie a tutti. Porco due! No cazzo! La sfida è perfetta, posso già prepustare la vittoria. Serena. Allora, ho un incavo per un amuleto. Ce ne posso mettere uno da uno. Uno da uno fanno schifo quelli da uno. Per chiudere che lui assorbe animi quando si viene colpiti. Semma del difensore. De una chirandosso ha un odore eroico. Spinella. Spinella. Mi piace, mi piace. Bella. Ale. Grazie per i due mesi. Rinnovo importante. Non ho messo una promessa. Colosseo senza tocchi salto merita la sub. Non avevo nemmeno letto. Grazie caro. Non la faccio la seconda sfida. È difficile recuperare un gioco che ho lasciato tanto tempo fa, eh. E ritrovarmi, rifare il percorso, insomma. Non è facile per niente. Sto continuando, ragazzi. Sto continuando. Però ci provo. Ci vorrà un po' di tempo, però piano piano mi riallineerò. Cos'è sto posto? Quando mori finisci qua? E più che altro... La banca mi interessa. Esamina, esamina. Qua si ripaga. Anima da recuperare finisce lì. Puoi distruggire un muro lì a destra? Ma dove? Perchè mi distruggire un muro lì? Perchè mi distruggire? Ma barca! Queste cose le avete scoperte da soli? O avete visto una guida o una live? ... Quando faccio sto rumore vuol dire che è un segreto, no? Idolo del re. Dov'è? Non è un... Ah, è una roba data a quel bastardo Sono sordi Ma cos'è un Gollum? È una sorta di citazione Ah, è una roba data a quel bastardo Mortacci sua Oh, è una roba È fortissimo sto stronzo Che palle! Ma mi sta devastando Non posso farlo Oh, è fortissimo Oh, è fortissimo Se tu che sei underrivellato Bastardo Ah, se mi avvicino troppo fa quella cazzata là Stavo dicendo... Stavo dicendo... Almeno resto con tre vite Bastardo No, raga C'ho pure di perdere le anime Beh, un po' dei colpi gliel'ho dati comunque Succa pur brutto stronzo Chiave semplice Che cazzo è la chiave semplice Che cazzo è la chiave semplice? Con un po' di pazienza Si fa tutto Ah, l'aculio è troppo debole Eh, lo so Io non posso immaginare Quando potenzierò l'aculio Quanto sarà più semplice sto gioco Se ci riesco, ovviamente Do cazzo vado mo? No, non so come usare le uova a marcia, ragazzi Dove vado? Sì, riuscito Va bene, ragazzi Ci fermiamo qua per oggi Un po' di cosine le abbiamo fatte Tutto sommato, eh Sì, riuscito